Ben ritrovati amici del nord-est italiano, vedrete nei prossimi giorni prevarranno le aperture del cielo, prevarrà il tempo tranquillo anche se qualche isolato disturbo ci sarà vedremo comunque nei prossimi aggiornamenti cosa succederà intanto uno sguardo alla giornata di domenica perché continuerà il bel tempo e le temperature miti continueranno soprattutto ad imperversare al centro e al sud con massime anche tra i 20 e i 24 gradi ma proprio sul nord Italia nella seconda parte della giornata sul nord-est, anche sul nord-est, giungerà una nuova perturbazione tanto per cambiare avremo cielo poco nuvoloso al mattino foschie e banchi di nebbia su zone di pianura qualche nuvola ci sarà soprattutto sull'Emilia più occidentale sui rilievi del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia verso la tarda serata e soprattutto nel corso della notte non escludiamo delle piogge sul Friuli Venezia Giulia ma comunque per il resto della giornata avremo tempo abbastanza tranquillo con qualche nuvola temperature minime poco al di sopra dello zero quasi ovunque vediamo le temperature massime prima di concludere ritroveremo valori attorno ai 10, 12, anche 13 gradi centigrani per ora è tutto, buon proseguimento di giornata